L'apertura della creazione alla risurrezione è una dimensione fondamentale, intanto perché la creazione, così anche come è pensata da Papa Francesco Illaudato Si, non è una realtà statica ma dinamica, che si apre al futuro, si apre all'avvenire e si apre all'incontro definitivo con Dio. Questo apre una prospettiva ovviamente di costruzione da parte dell'umano di ciò che è il dono che gli viene consegnato, che in qualche modo deve riconsegnare e offrire a Dio di nuovo. La cosa suggestiva è che la tradizione cristiana anche ci dice che la liturgia, pensiamo alla liturgia della veglia pasquale, è fondata sui quattro elementi, il fuoco, l'aria, il fuoco ovviamente al momento iniziale, l'aria, la parola, l'acqua, il fonte battesimale e l'ultimo elemento è quello del pane che rimanda al dono della terra e del lavoro dell'uomo. Il Papa vede che per avere una vera ecologia bisogna avere una cura della casa integralmente, cioè allargare le prospettive perché semplicemente con soluzioni tecniche non si arriva da nessuna parte. In questo modo la Bibbia, ci siamo posti, poi ci porremo meglio questa domanda, che cosa può servire? La Bibbia ha quattro cose enormi che possono servire all'ecologia. Primo l'idea di creazione e secondo l'idea di una restaurazione finale, un mondo futuro nel quale questo nostro mondo sbocca. Oltre queste due cose, a guardare il Nuovo Testamento, ci sono due altri aspetti. Il primo aspetto è quello dell'incarnazione. Significa che la cura della casa comune ha tra i suoi oggetti quel piccolo oggetto che è Gesù, il figlio di Dio nato dal grembo della Vergine Maria, che appartiene alla creazione anche, che appartiene a questa cura. Accanto all'incarnazione, la risurrezione. Come sottolinea bene anche il Papa, da questo punto di vista l'Eucaristia, che è un frammento di natura che diventa, si transustanzia nel figlio di Dio risuscitato per sempre, è un punto attorno al quale si può rinnovare la coscienza ecologica intendendo una cura del creato che deve arrivare fino a una restaurazione finale.